e c'è tutti ragazzi benvenuti in questo video di sonyx e oggi signori siamo tornati su sea of solitude andiamo subito a continuare la partita vediamo dove eravamo arrivati a è così vero 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 eravamo appena riusciti a sfuggire dalla dalla casa da quei ricordi che ci stavano tormentando a causa di nostro fratello che abbiamo colpevolmente non curato abbastanza attenzione perché qua c'è il mostro dobbiamo andare verso quella parte sembra tutto un po troppo scuro ok là c'è il bus ok vai veloce più veloce c'è preso no no che culo meno male adesso ragazzi dobbiamo andare faccio un po di fatica a vedere perché tutto molto sì l'ho capito il mostro di là lascialo stare lascialo stare tutto molto scuro ecco un piccione sciu sciu il nostro piccioncino abbiamo già trovato i sette quindi non troppo male il mostro continua a navigare qua sotto di noi vediamo dove potrebbe essere la strada migliore credo di qua ok si lo sta dov'è il nostro amico vabbè non c'è noi andiamo più intrepidi uh mamma che come 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 arriva oh come una faina e mo aspetta perché non vedo una mazza credo di qua vabbè andiamo dritto va sì 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 credo di sì vai oh cazzo si è arrabbiato uh c'è arriva c'è arriva c'è arriva uh meno male mamma mia l'ansia mi fa venire l'ansia aspetta qua c'è un pontile forse riusciamo no non è un pontile un tetto porca miseria allora sempre dritto di là eh ma ho capito ma come ci andiamo ma siamo sicuri perché non vedo nessun punto d'appoggio da queste parti scusi eh no è il no questo ci c'è oh aspetta mi ha fatto cadere il bastardo eh ma adesso andiamo là e poi non lo so non lo so ho molti dubbi a riguardo però intanto dobbiamo andare di là che dobbiamo fa e forse da qua però non ci passa aspettate perché proprio qua sotto il bastardone vai veloce sali ok e mo forse da ah la però vedevo guarda c'è qualcosa là sotto forse dovremmo tornare indietro sai forse bastardo ha fatto cadere aspetta forse è meglio se moriamo ragazzi perché da quel lato ho visto qualcosa da quel lato c'era un cassonetto dove poterci riparare secondo me la strada è da quella parte non è di qua quindi proviamo ad andare da questo lato aspettate devo andare io di qua sempre ok allora attraversiamo un attimo di qua fino a qua ci siamo e poi secondo me dobbiamo andare da questa parte ecco qua la strada guarda un po' dove stava esattamente di qua ok andiamo a allora da qua non c'è niente ecco perfetto vedete questa è proprio la piattaforma che vediamo prima veloce grazie mo di qua perfetto poi di la ottimo 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 che tutto abbastanza chiaro perfetto io eviterò di andare di la perfetto che andiamo o veloce veloce per un soffio poi adesso proprio lo perculiamo sotto i baffi la facciamo ok aspetta perché quello lo vedo un po troppo lontano vai adesso vai adesso senza paura senza paura oh mamma mia e mo to cats ah la c'è una bottiglia ok la da in quel tetto perfetto allora one aspettiamo anche l'onda giusta aspettiamo la marea adesso vai più veloce cat ma preso no oh per un soffio aspetta che raccoglio la bottiglia allora spero proprio che tu sappia notare bene quanto meno non voglio sembrarti presuntuosa ma ti ho avvisato eh sì ce ne siamo accorti la barca la barca ce ne siamo accorti eh aspetta c'è qualche gabbianella qua qualcuno da sbloccare no 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 non c'è non c'è ok perfetto barca dai zona franca zona franca perfetto torna il sereno e neanche io effettivamente ecco la c'è è sempre nostro fratello quello sì infatti dobbiamo andare verso di là andiamo verso di là don't give up on me non non arrenderti con me non tipo non mi abbandonare qualcosa del genere arrivo frate me arrivo beh ah guarda che bella guarda il povero fratello guarda che triste guarda che triste arrivo frate me scusa perdala me io la volevo non volevo farti questo fratello mio perdonami tanto che che fa ma non è che sei incazzato con noi no eh no e mi sa che sì eh non deve andare di qua giusto sì 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 no non deve andare fratello mio come si chiama sanni perdonami e aspetta mo come ci arrivo là un attimo e sonni amico mio ma sempre con la barca possiamo scendere a piedi non lo so ma secondo me e lo so ma forse di qua vediamo aspetta sonni eccolo sonni ti prego perdonaci perdonaci sonnuccio ti sentiranno e ci troveranno ah credo che parli dei suoi guzzini no sonni ci sono io stavolta proteggerti non ti preoccupare vedete è rimasto lo shock aspetta nel frattempo qua c'è una bottiglia un attimo un attimo ferma posteggia posteggia ma che sta parte un po complessa da manovrare oh no non l'avevo vista le mani però porca miseria e mondo sta sta a bottiglia eccola aspettate no non pensavo ci fossero le mani pure loro si potevano far vedere prima no allora ci vado direttamente con la barca no e che cazzarola o allora dici che si può odiare qualcuno a prima vista se hai già incontrato con l'orribile pesce sai di cosa parlo beh sì sicuramente non è che ci faccia particolarmente simpatia però odiare addirittura mi sembra un termine molto forte c'è un po di astio magari nei suoi confronti specialmente nei suoi verso di noi ecco a sonni che dobbiamo fare eh vedi 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 siamo noi salmi tua sorella ma perché non fa dritto fa la della parte sta barca niente e sanni però io non è che ci avrei qua tutta la notte ci sbrigiamo per favore niente non si fa convinto il muovo mi è scomparso l'uccello dove è l'uccello è sparito l'uccello dove è finito to sta a eccolo qua per trovare un uccello così grosso è un po difficile va neanche cicciolina riuscirebbe tanto ma c'è qualcosa in particolare che dobbiamo fare per convincerti a starti fermo oppure ah forse questo forse dobbiamo sparare qua i missili di terra aria sì sì credo di sì credo di sì io credo spero più che altro sunny aspetta e se aspetta 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 no che da no vediamo se ci andiamo a piedi no porca aspetta secondo me dobbiamo avvicinarci a piedi eh lo stavo di nuovo là vabbè allora guardate ragazzi vediamo proviamo ad avvicinarci a piedi perché sennò qua non ne usciamo più allora scendi qua forse si spaventa dalla barca non lo so tanto che c'è uno shu shu ecco c'è un gabinello allora avviciniamoci a sanni sanni ti prego andai andare amico mio sono io guardami guarda che ciao carino bello eh 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 promesso eh 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 promesso che faccio cagare addosso che fa perché si è girato no che fa si è suicidato si è annegato che sta a fare sanni ma poi non puoi volare sott'acqua dove va che fa lo devo seguire sì la barca dovevo prendere ho capito ok aspetta c'è un'altra bottiglia maestro no di qua no grazie arrivo subito dammi un secondo prendo la bottiglia qua allora ho l'impressione di conoscere a mena dito questa città ogni suo angolo persino questo balcone che strano beh un po' strano potrebbe essere effettivamente vabbè magari è un po' una città fatta tutto uguale attenzione non cadiamo perché sennò siamo fregati dove stanno l'uccello sa nemico mio vieni qua mazza oh quanto ti fai desiderare per farti dare una carezza che fai morto? che fai ha annegato? no che tristezza oh piano no la corruzione aspetta ti aspetta che ti scorruziono io dove sta mo? aia anzi no però è tornato il sereno eh oh l'acqua cala vediamo la marea si abbassa e mo? ah resta una siamo circondati però dall'acqua questa parte di città viene risparmiata aspetta a gabbiano mondo andiamo aspetta non lo vedo rifarmela ah di qua perfetto ci abbiamo qualche bottiglia qualcosa sembra sembra di no sembra di no ok da questa parte ho capito da questa parte oh sbrilluccichio com'è? tutto bene? eh magari sarebbe una bella idea grazie facciamoci un attimo un giro prima di andare verso sbrilluccichio e vedere che cosa vuole da noi un attimo saliamo questa scala questo è un hotel potremmo trovare qualche qualche bel gabbiano qualche bella bottiglia vediamo siamo in cerca di collezionabili di qualcosa può essere di sì questa strada sembra fatta apposta proprio per nascondere dei segreti e noi la stiamo scovando non c'è la mazza in realtà secondo me stiamo perdendo tempo come sempre tanto le porte ragazzi non si aprono non c'è interazione poi con le abitazioni con le cose che ci circondano quindi inutile anche premerci e che stiamo a fare qua? vabbè abbiamo perso tempo ah come volevo sentire perfetto ottimo e ora andiamo di qua vabbè possiamo scendere o ci ammazziamo? non lo so siamo morti? no perfetto ok però bella 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 mi piace molto l'ambientazione questi colori questa storia anche che c'è di questa ragazza che cerca di risolvere il tormento che è interno chissà che fino a fatto nostro fratello nel frattempo ma lo so ah di qua dov'è? ah di qua di qua di qua di qua ho capito ho capito vabbè dobbiamo seguire sbrellucci io giustamente perciò non è che sia difficile da capire siamo alla stazione dei treni immagino o qualcosa del genere arrivo aia chi è questo mo? no non prenderlo sbrellucci io ah che palle di nuovo mamma oh che desidero e che che faccio? ah ok guardate l'ho capito ho capito no queste sonni che fate? oh aspettate venite venite secondo me li devo attrarre verso la luce raga venite 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 belli venite bravi guardate stiamo arrivando eh manca pochissimo e ci siamo no che fa torna indietro brutti stronzi venite 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 perfetto perfetto ok venite 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 no venite venite no porca ma forse li devo semplicemente liberare dalla corruzione non lo so che cazzo devo fare che stanno a fa? ah basta vabbè era facile vabbè scusa bruncì io ci ho messo un po' a capire eh tu sei tardi per la classe io ti amico in classe ah che? ho pensato era il tuo preferito cosa è vero? eh cosa volevi dire? eh però per tu sanni noi te l'avevamo chiesto eh non ci hai detto niente eh perdonami ah gloria non ancora fight back fight back fight back niente mi sa che non fight back il nostro sprinocchio e allora ragazzi mentre anzi no 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 guarda da qua che si vede un panorama bellissimo ragazzi prima di andare avanti a salvare sbrilluciglio da quella rissa che non mi piace per niente per questo episodio è tutto mi raccomando fatemi sapere la vostra cosa ne pensate nei commenti guardate anche che bel panorama proprio che bella outro con questo panorama bellissimo con queste cascate che ci circondano sembra un po' di essere in un convegno terrapiattista visto l'ambientazione comunque fatemi sapere la vostra iscrivetevi al canale qualora vi piacessero queste serie andate nelle mie patine facebook e instagram e noi ci vediamo come sempre domani con dei nuovi video ciao ciao